Questa è reale. Wow, sembra un posto complicato. Dovremmo prendere l'ascensore. È così che raggiungeremo l'uscita. Andiamo a sinistra, ovvero la scala. Vediamo prima quella strada. Dovremmo farlo muovere e salire. Certo, ma c'è la diffusione. Questa è un episodio. Questa è un episodio. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Cos'è questa? Si chiama chitarra. È uno strumento che suonavano i popoli antichi per fare corpo. E questa è un piano forte, giusto? Già, per la gente la musica era una preziosa fonte di conflitto. Qualcuno avrà dormito qui? Non è un bel posto per sognare. È una bottiglia d'acqua? No, no. È l'ultimo dono che un dio abbia mai pensato di mangi. Oh, bacco. Questo è? Un luogo per non eri morti. Attendono ancora la salvezza che la speramate gli ha promesso. Maledizione. Voglio mandare i ricordi lasciati qui alla speramate. È quello che ho visto. Ti aiuterò? Anch'io, anch'io. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti.